Che è? Che fatto è? Strano Guarda fuori dalla finestra Sì sì adesso ci guardiamo un attimino Eh che ne so C'è una combinazione qua Cosa c'è? Zero quattro Aiuto Mamma mia Zero quattro Aiuto Mamma mia Zero quattro Aiuto Mamma mia Sì vabbè ragazzi c'è però voi mi fate venire un infarto Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ho fatto male il collo colpo di frusta da videogioco horror ma che paura ooooh accidenti no